Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Ragazzi, Simone Verdi ha dato il suo no definitivo al trasferimento a Napoli. Avevo fatto un video ieri sera dove avevo detto che Verdi era ancora indeciso se accettare o meno e stamattina è arrivato il no definitivo da parte del calciatore. Come avevamo già detto, tra sabato e domenica sembrava tutto fatto. La giornata di ieri doveva essere quella decisiva per la fumata bianca. Dovevano soltanto incontrarsi dei Laurenti Secchiavelli con gli agenti di Verdi per chiudere e firmare tutto. Anche ieri in serata quando non arrivava nessuna notizia si diceva che era solo questione di tempo però poi verso le otto e mezza nove arriva la notizia che Verdi ha chiesto un altro po' di tempo per riflettere se accettare o meno. E poi stamattina è arrivato il no definitivo. Ma dico io, no, caro Simone Verdi, ma tu chi sei? Chi ti credi di essere per rifiutare il Napoli? Cioè come si fa a rifiutare il Napoli, la maglia azzurra? Perché Napoli è vero calcio, Napoli è passione. Tu chi sei per farci perdere a noi tutto questo tempo? A pensare a te se accetti, non accetti? E ora a piangerci addosso, non certo saremmo noi ma lo sarai tu perché quella di rifiutare Napoli è davvero una grandissima gretinata. Quindi caro Simone Verdi, statta a casa tua, è buona permanenza nella tua mediocrità. Ora probabilmente si andrà su Deulofeu. Nelle ultime ore si stanno facendo anche altri nomi, tipo quello di Starridge. Certo, Starridge sarebbe davvero un grandissimo acquisto. Un calciatore che può fare l'ala e che potrebbe essere anche adattabile come prima punta. Poi si sta facendo l'ipotesi che Junts potrebbe arrivare a gennaio e non più direttamente a giugno. Ma io direi di prendere un calciatore importante, se no se dobbiamo prendere uno tanto per prenderlo è meglio che non lo prendiamo. Quindi certo peccato che non sia arrivato Verdi. Però solo uno che si pone il dubbio se accettare o meno la maglia azzurra non merita di venire a giocare a Napoli. Perché già un'avventura con dei dubbi non si mette bene. Perché tu, quando tu giochi nel Bologna, sei un calciatore di prospettiva, con margine di crescita, vedi che il Napoli ti viene a cercare, tu devi accettare, punto. È vero sì che rischi di fare la panchina, però se credi davvero in te stesso sei consapevole che il tuo spazio te lo potrai prendere. E poi si dice anche che si era sentito con Sarri, ora dice che vuole chiudere la carriera a Bologna. C'è qualcuno che ha detto che lui poi ne vorrebbe riparlare a giugno. Ma senti, stati a casa tua, fino ad un certo punto. Noi in quel ruolo abbiamo due fuori classi come Insigne e Callejon e potremmo prendere Deulofeu, che come ho detto ieri, secondo me non è così tanto inferiore a te. Molti preferiscono Deulofeu, anche molti opinionisti di vari giornali. Anche da parte vostra, quando misi il sondaggio tra Verdi e Deulofeu nel video della settimana scorsa, la maggior parte di voi hanno votato tutti Deulofeu anche sotto ai commenti del video di ieri. Molti mi hanno scritto meglio così, meglio che arrivi Deulofeu invece di Verdi. Perché Deulofeu comunque ha esperienza nel calcio italiano, ha sì giocato soltanto sei mesi la scorsa stagione al Milan, però ha fatto davvero delle ottime prestazioni. Quindi ragazzi, vediamo cosa succede nelle prossime ore, cosa succede nei prossimi giorni. Quindi ora Verdi è definitivamente saltato purtroppo, ma non ci merita, uno così non ci merita, perché la maglia azzurra non si rifiuta, appunto. Detto questo ragazzi, io vi saluto, speriamo che arriverà il primo possibile questo benedetto acquisto e sempre forza Napoli! Grazie a tutti!